Bentornati nel mio canale YouTube, eccoci qui e finalmente facciamo la recensione del Fejutech SPG che ci ha mandato Go Camera perché non abbiamo avuto ancora un minuto libero per poterci giocare un po'. Quali sono i pregi e quali sono i difetti di questo stabilizzatore per telefonini e per GoPro? A primo impatto lo stabilizzatore funziona molto bene nel senso che stabilizza il movimento del telefonino in maniera ottimale tant'è che vi faccio vedere qualche ripresa che ho fatto qui attorno Ma, c'è un ma, ovvero lo stabilizzatore tende leggermente ad inclinarsi quando facciamo degli spostamenti un po' troppo bruschi Eh, vedete, non è in asse Si riposiziona una volta che smette la rotazione, quindi ruota Ruota, mi metto dritto e lui adesso piano piano si metterà in asse con il muro Ma se io mi muovo velocemente e mi raddrizzo Vedete che il telefonino è completamente fuori asse Quindi, quando ruoto da una parte piuttosto che dall'altra A parte la qualità della registrazione che non c'entra nulla con lo stabilizzatore Possiamo capire come si muove Lo consiglierei? Beh, io lo stabilizzatore per un telefonino non lo utilizzerei mai Però, visto che c'è la possibilità di utilizzarlo anche con la GoPro Andiamo a smontare il telefonino dalla sua staffa e andiamo a metterci la GoPro Ah, prima di passare alla GoPro vi faccio vedere una cosa Qui abbiamo il pulsante che serve per le varie impostazioni Perché questa è la prima impostazione che ci permette di tenere il telefonino sempre nella stessa posizione E di ruotarlo Con il nostro joystick abbiamo la possibilità di abbassare il tilt della telecamera La telecamera, il telefonino stesso Alzarlo o addirittura ruotarlo a destra piuttosto che a sinistra Il pulsante serve con un clic per andare a fissare il telefonino in questa direzione Ma non si muove se noi giriamo l'asse verticale Quindi manterrà un punto fisso Un po' come funzionava con il G3 Visto che vengo da una generazione di Fejutec Poi due clic ci permetterà di avere tutta la morbidezza In tutti gli spostamenti laterali Ecco qui ad esempio tenderà un po' a piegarsi Vedete il telefonino Quando lo faccio girare Vedete adesso è rimasto laterale Adesso piano piano Se mi rigiro in questa direzione qua Avrò lo spostamento laterale dall'altra parte Vedete che non è più in bolla Poi piano piano se ne torna in bolla Se io mi sposto verso l'alto o verso il basso La telecamera seguirà il movimento del mio spostamento Del braccio stesso 3 clic 1, 2, 3 Modalità No? 1, 2, 3, 4 C'era una modalità selfie Non mi ricordo più come si fa Eccola qua Con 3 clic veloci Abbiamo la telecamera che si gira verso di noi Quindi per l'opzione selfie style Notate che comunque il telefonino Non rimane sempre perfettamente in bolla Come vi dicevo prima 1, 2, 3 E ce ne ritorniamo dritti nella stessa direzione Smontiamo lo Xiaomi E montiamo la telecamera GoPro Come potete ben vedere la GoPro qui non ci sta O meglio ci sta Ma Scappa molto facilmente Sono state inserite all'interno della scatola Questi supporti di Gomma Uno sopra e uno sotto Ok Che ci permettono di inserire la GoPro All'interno di questi supporti stessi Vedete? Così Tiriamo su E richiudiamo E Eccola qui Ovviamente Non è pesante come il telefonino Non è sbilanciata come il telefonino Quindi dovremo andare a ribilanciarla Ruoteremo la nostra Rotellina E Sposteremo Finché La GoPro Non rimarrà più o meno In Asse Bilanciata Ok E andiamo ad accendere di nuovo Il nostro Fejutec Questa volta con La GoPro a bordo Uno due tre Che dire Il telefonino rimane sbilanciato La GoPro anche Non rimane particolarmente in bolla Lo stabilizzatore reagisce anche bene Come al solito Ma vedete che La telecamera Rimane Rimane costantemente storta Poi si raddrizza piano piano Ecco La telecamera non sarà mai Perfettamente Dritta Quindi Se volete Uno stabilizzatore Per GoPro Magari buttatevi sul Karma Grip Ecco Un consiglio che vi posso dare È stortissima È Veramente stortissima No Non ci siamo Fejutec in quest'ultimo periodo Si sta un po' Abbassando qualitativamente Devo dire Non mi convincia Poi un altro difetto Di questo stabilizzatore È che una volta che abbiamo Fissato la telecamera Che però non è così fissa E sicura Cioè io Tipo in moto Con uno stabilizzatore Così non ci andareai neanche morto Possiamo Accendere la telecamera Senza molti problemi Ma poi Non avremo La visibilità Dello schermino Provo a fare così Per farvi vedere un attimo Cosa si vede Ma vedete che La visibilità dello schermino È veramente Ridottissima Cioè se lavoriamo così Non si vede Se lavoriamo così Si vede male Se lavoriamo così Ma non è pensabile Che uno lavori così A meno che non si faccia dei selfie Ma se si sta facendo dei selfie Non vede il monitor Che comunque È Piccolissimo Tra l'altro Difficilissimo anche Piggiare il pulsante Per far partire la registrazione Perché vedete che Viene quasi completamente coperto Dallo stabilizzatore stesso No No Pollici in giù Per questo stabilizzatore Ragazzi Niente Questa è la mia recensione Non particolarmente Positiva di questo prodotto Lo vado a spegnere Nel frattempo Se vi è piaciuto Questo video Cliccate mi piace Qui sotto Iscrivetevi Al mio canale E ci vediamo Con le prossime recensioni Perché abbiamo avuto modo Di comprare un sacco di cose Su Amazon Prime Se avete già visto Abbiamo fatto un po' di unboxing oggi E nei prossimi giorni Non avremo altro Che da Aprire dei pacchi E da fare delle nuove recensioni Quindi un saluto A tutti quanti Un ringraziamento A Go Camera Come al solito Per tutto Quello che ci manda Da recensire Ci vediamo Con il prossimo video Ciao a tutti